Ecco l'assalitore di Monaco in queste immagini amatoriali sul tetto del centro commerciale. L'assalitore è un diciottenne tedesco iraniano. Nel corso dell'azione avrebbe gridato più volte la frase «Sono tedesco», il racconto di un testimone. Ho sentito diversi colpi di arma da fuoco, 4 o 5, e grida. All'inizio non ho reagito, ho pensato che fossero fuochi d'artificio, ma poi ho sentito una seconda serie di colpi. Mi sono affacciato dal balcone e ho visto qualcuno che correva nel parcheggio con una pistola in pugno e urlando. Poi ho sentito altra gente gridare e mi sono detto «Ma che sta succedendo?». La polizia ha interrogato il padre del giovane. La famiglia vive alla periferia di Monaco. La loro abitazione è stata perquisita. Secondo i vicini e i compagni di scuola, il ragazzo era un tipo tranquillo.